Acquista i migliori prodotti di telefonia. Visita Mondotel a Marina di Camerota. Scopri le offerte di telefonia a prezzi scontati dei migliori brand. iPhone, Samsung, Huawei, Redmi. Inoltre da Mondotel puoi trovare un'ottima selezione di accessori smartphone come caricabatterie, auricolari, powerbank, schede di memoria, Hi-Fi, piccoli elettrodomestici, idee regalo, ricariche telefoniche e naturalmente il servizio assistenza. Mondotel di Concetta Giudice, in via Lungomare Trieste a Marina di Camerota. Infoline 0974 37 96 36 Mondotel di Concetta Giudice, vi augura buone feste.